Ancora tentativi di introdurre telefonini e stupefacenti nel carcere Malaspina di Caltanissetta. Due episodi, resi noti dal segretario nazionale del sindacato Polizia e Giustizia Francesco Scaduto, si sono verificati la scorsa settimana. Il 6 giugno scorso due microcellulari sono stati trovati nascosti all'interno di un paio di scarpe contenuto nel pacco postale indirizzato a un detenuto comune. Ad accorgersi dell'anomalia un poliziotto penitenziario durante il normale controllo dei pacchi per i detenuti. Il secondo caso si è registrato nel pomeriggio di due giorni dopo. Nel corso della perquisizione successiva all'immatricolazione, un detenuto proveniente da un altro carcere siciliano è stato trovato in possesso di un microtelefonino oltre che di 20 grammi di hashish.